I dipinti che come questo ritraggono persone eleganti che si corteggiano, chiacchierano o ascoltano musica in poetici parchi naturali appartengono a un genere particolare, la cosiddetta festa galante, genere in voga nella Francia del XVIII secolo. Il termine Fête Galante fu coniato nel 1712 dall'Accademia Reale di Pittura e Scultura per definire proprio pellegrinaggio all'isola di Citera, ancora incompiuto. Watteau presentò la versione iniziale come opera di ammissione per accedere all'Accademia completando il dipinto nel 1717 e, poiché non rientrava in nessuna categoria esistente, fu definita una festa galante. Nell'antichità si pensava che l'isola di Citera fosse il luogo di nascita della dea dell'amore Afrodite, la venere della mitologia romana ed era pertanto un'ambientazione perfetta per le raffinate coppie delle tele di Watteau. Sebbene il dipinto non chiarisca se le coppie si stanno imbarcando per raggiungere l'isola di Citera o stanno tornando dal viaggio, ciò che risulta evidente è che la composizione rappresenta le diverse fasi del corteggiamento. In primo piano, sotto la statua di Venere, una coppia è occupata in una romantica conversazione mentre, accanto a loro, un uomo e una donna si stanno alzando per andarsene e la terza coppia ha già cominciato il suo viaggio, con la donna che volge lo sguardo nostalgico indietro, verso gli altri. Sullo sfondo, altre coppie procedono verso un'imbarcazione ricoperta di fiori e seta, amoreggiando lungo il cammino, circondate da putti che saltellano allegramente. La composizione è un'irreale evocazione di uno stato d'animo, forse velato da una dolce malinconia. Qualcosa di teatrale coinvolge tutta la scena, con i personaggi centrali che appaiono illuminati come da luci di scena e non è da escludere che il dipinto sia stato ispirato al teatro del tempo. L'arte di Watteau ispirò due imitatori contemporanei, Jean-Baptiste Pater e Nicolas Lancret, e artisti successivi come François Boucher e Jean-Honoré Fragonard. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!